Benvenuti all'oroscopo di oggi. Siamo lieti di accogliervi in questa sessione di previsioni astrologiche per la giornata. Oggi vi porteremo le ultime notizie astrali e gli influssi planetari che influenzeranno la vostra vita. Sarà un viaggio emozionante attraverso le stelle, quindi preparatevi a scoprire cosa il destino è in serbo per voi oggi. Ciao Ariete. Ariete. Pare che gli astri stiano orchestrando un intrigante mix per te. Questo non è il momento di tuffarsi in avventure rischiose, è preferibile mantenere i piedi ben saldi a terra e non farsi trascinare troppo dall'entusiasmo. Mentre in amore le cose mantengono una certa stabilità, fa attenzione a non trascurare i dettagli più piccoli. Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci sfide da affrontare con determinazione. Mantieni la concentrazione sul fronte finanziario e cerca di evitare spese inutili o impulsività. Nel campo professionale, potreste trovarvi di fronte a sfide inaspettate. Prima di prendere decisioni affrettate, concedetevi il lusso di mantenere la calma e la pazienza. Questo periodo richiede un'analisi attenta per distinguere ciò che è veramente importante da ciò che non lo è, e per sviluppare una strategia adeguata. Non escludete approcci non convenzionali, potrebbero rivelarsi sorprendentemente efficaci. Il santo Stefano si avvicina e la riete sarà focalizzato sull'egocentrismo in modo puro e senza scuse, il desiderio di attenzione sarà così evidente che cercare di nasconderlo sarà come tradire se stessi. Sii onesto e abbraccia questa attitudine senza riserve. Ciao Toro. La vostra determinazione domani sarà notevole, ma attenzione a non ottenere nulla se continuate a manifestarvi in modo brusco. Alleati preziosi potrebbero allontanarsi se scaricate la vostra insoddisfazione sugli altri. Invece, ritiratevi un po' e cercate di ristabilire il vostro equilibrio interiore. Questo sarà benefico anche per la vostra salute, che al momento potrebbe essere un po' delicata. Ehi, amico del Toro! Sembra che ci sia una sorta di parco divertimenti cosmico nella tua vita al momento, vero? L'energia sembra fluttuare, un giorno sei in alto, il giorno dopo sei giù. La compatibilità con gli altri è altalenante, quindi preparati a qualche altibasso nelle relazioni. In amore, potrebbe non essere tutto idilliaco, ma nemmeno tempesta imminente. Sul lavoro, potrebbe spuntare qualcosa di interessante se mantieni gli occhi bene aperti. Per le finanze, fai attenzione a quegli acquisti impulsivi. Empatico più che mai, il Toro entra nell'atmosfera natalizia, ma potrebbe diventare un po' epetulante a lungo andare, soprattutto a causa della sua curiosità e non del fastidio che potrebbe causare. Mantieni la curiosità ma limita l'interferenza nelle vite degli altri. Ciao gemelli! Caro gemelli, sembra che l'universo stia preparando un po' di alti e bassi per te. Alcune aree della vita risplendono, mentre altre potrebbero essere un po' meno chiare, è meglio prestare attenzione al tuo benessere generale e fare attenzione a non lasciarti coinvolgere troppo in situazioni finanziarie incerte. Amore e lavoro? Potrebbero esserci sorprese, quindi manteniti aperto alle nuove esperienze. Attualmente, potreste sentire che tutto è in stallo, ma considerate questo momento come una prova della vostra determinazione. Chiarite quanto siano importanti i vostri progetti e troverete la forza di superare le avversità o di orientarvi verso nuove destinazioni. Pieno di energia positiva, gemelli brilla nelle prossime ore. Tuttavia, la sua energia è influenzata dalle persone attorno a lui, quindi cerca di circondarti di positività. La chiave è rimanere vicino a persone che ispirano buoni sentimenti. Ciao Cancro! Caro Cancro! Sembra che le stelle abbiano in serbo per te un periodo dinamico. Non tutto sarà liscio come l'olio, ma non farti prendere troppo dallo stress. In amore, potresti incontrare qualche ostacolo, ma sul lavoro, tieni gli occhi aperti perché potrebbero presentarsi opportunità da sfruttare. La fortuna sembra girare a tuo favore, più o meno. Per quanto riguarda le finanze, è meglio stringere la cinghia e evitare spese superflue. E ricorda di mantenere alta quell'energia. Il lavoro sembra essere un gioco da ragazzi al momento. Potete dedicarvi anche a compiti più rischiosi, ma attenzione a non perdere di vista l'obiettivo. I legami familiari sono armoniosi grazie anche al vostro equilibrio interiore. Prestate attenzione alla vostra salute per affrontare eventuali tempeste impreparate. Mostra empatia anche verso coloro che sembrano non meritarla direttamente. Non devi sembrare distante, ma trova un equilibrio nell'ascoltare e nell'occuparti delle tue cose. Troppo radicalismo potrebbe non portare al successo. Ciao leone. Leone. Sembra che l'universo ti stia inviando segnali misti ultimamente. Stai attento perché alcuni aspetti della tua vita potrebbero sorprenderti, sia in positivo che in negativo. La tua energia è altalenante, quindi gestisci l'assaggiamente. In amore e lavoro, ci saranno alti e bassi, ma la costanza sarà la tua guida per attraversare queste acque turbolente. Meno egocentrico del solito, il leone si orienta verso la soddisfazione collettiva. Potrebbe essere un periodo positivo per sperimentare cose nuove in contesti sociali o in nuovi hobby. Niente di romantico, ma aperto a nuove esperienze. Il destino vi metterà di fronte a nuove sfide nelle relazioni. Anche quando diventano difficili, cercate di utilizzare i contrasti per comprendere meglio chi vi circonda. Non rimandate a lungo chiarimenti, poiché c'è una buona probabilità che tutto possa risolversi positivamente. Ciao Vergine. Ehi Vergine. Sembra che tu stia vivendo un momento abbastanza interessante. Potrebbero esserci sfide sul lavoro, ma niente paura. Potresti sentire come se l'universo ti avesse messo in pausa per quanto riguarda le finanze, quindi mantieni la calma e non fare passi più lunghi della gamba. In amore, forse è il momento di mettere il cuore in stand-by, non è detto che sia una cosa negativa. E ricorda, la tua energia sembra una montagna russa ultimamente, quindi prenditi il tempo per respirare quando necessario. Nuove persone entreranno nella vostra vita privata domani. Il vostro modo di agire affascina chi non vi conosce, aprendo la porta a nuove e promettenti conoscenze. Rispondete all'interesse degli altri con lo stesso entusiasmo. Potreste guadagnare amicizie durature o, con un po' di fortuna, incontrare un grande amore. Anche se è un giorno per il relax, la Vergine riflette sull'aspetto professionale. Valuta attentamente, anche distaccandoti dai contesti conosciuti, prima di prendere decisioni. Ciao bilancia. Ehi bilancia. Gli astri sembrano preparare un po' di alti e bassi per te. In alcune aree, potresti sentirti come se fossi su una nave in balia delle onde, mentre in altre sarai il capitano deciso al timone. Ricorda, ogni fase ha la sua ragione d'essere, quindi usa i momenti meno brillanti per riflettere e quelli migliori per agire. Piena di buone intenzioni, molte realizzabili con piccoli gesti. Per obiettivi più complessi, valuta una tempistica più lunga. Sì realista e perseguibile nelle tue aspirazioni. Attualmente, vi sentite bene con voi stessi, manifestando calma interiore e un forte desiderio di agire. Il vostro equilibrio influisce positivamente su colleghi e amici, che si affidano a voi per consigli. Continuate così. Le persone con cui lavorate dimostrano amicizie e interesse nei vostri confronti. Il senso di squadra si manifesta chiaramente con incarichi comuni. Approfittate di questa atmosfera di ispirazione reciproca e motivazione. Ciao Scorpione. Scorpione, potrebbe esserci un po' di agitazione sul fronte emotivo e potresti sentirti come se stessi navigando senza una bussola. Per quanto riguarda la salute, prenditi cura di te stesso e non trascurare i segnali che il tuo corpo sta inviando. Sul lavoro, mantieni un profilo basso, meglio evitare mosse audaci per ora. A livello finanziario, controlla attentamente le spese prima di procedere con acquisti importanti. Rapido nell'analizzare situazioni, lo Scorpione sembra avere una volontà nascosta. Tuttavia, potrebbe essere un po' alteso. Affidarsi a una persona affidata può aiutare a rilassarsi. Irradiate energia da ogni poro. L'attività fisica è un ottimo modo per soddisfare la vostra voglia di fare. Grazie alla vostra forma fisica eccellente, potete affrontare allenamenti più impegnativi. Utilizzate questa energia anche nel lavoro per realizzare i vostri sogni. Il vostro atteggiamento positivo coinvolgerà gli altri, garantendovi supporto. Il successo è a portata di mano. Ciao Sagittario. Caro Sagittario. In questo momento, potresti attraversare un periodo finanziario con qualche allibalo, ma niente di cui preoccuparsi eccessivamente. Per quanto riguarda l'amore, sembra che le tue relazioni stiano procedendo in modo abbastanza armonioso. Sul fronte lavorativo, affronta le sfide con determinazione e concentrazione. Ricorda che la fortuna potrebbe non essere dalla tua parte ora, quindi metti in gioco la forza del tuo impegno più che aspettarti colpi di fortuna. Quanto all'energia, cerca un equilibrio tra il lavoro e il tempo libero per mantenere la tua vitalità al massimo. Se urgente, agisci senza valutare estremamente pessimista o ottimista, altrimenti rischi di ostacolarti. Interagire in modo ponderato questa settimana produrrà risultati più positivi. I legami con il tuo gruppo di amici si approfondiranno, risolvendo eventuali dissidi in un'atmosfera di tolleranza e apertura. Qualsiasi attività con gli amici si svolgerà serenamente, rafforzando la fiducia reciproca. Ciao Capricorno. Caro Capricorno. Gli astri sembrano portare alti e bassi nella tua sfera finanziaria. Sta attento agli investimenti e gestisci saggiamente le risorse. Per quanto riguarda l'amore, ci sono vibrazioni interessanti, anche se non aspettarti esplosioni di emozioni. La tua energia è in buona forma, utilizzala per affrontare le sfide lavorative con attenzione. Ricorda di mantenere i piedi per terra, anche se l'avventura può sembrare allettante. Potenzialmente intollerante, il Capricorno potrebbe sembrare fastidioso e distante. Sii consapevole del tuo impatto sugli altri, anche durante il periodo natalizio. Ogni collaborazione risulta ora efficace e favorevole, i tuoi obiettivi sono in armonia con quelli delle persone che ti circondano. Sfrutta la tua salute e il tuo intelletto per lavori di gruppo. Anche gli incontri privati avvengono in modo armonico e produttivo. Sei in condizioni strepitose, emanando positività e chiarezza nelle priorità professionali. La giornata trascorrerà bene se gestita con moderazione. Ciao Acquario. Caro Acquario. In questo periodo, potresti sentirti come se stessi navigando su un mare tempestoso. La tua energia è altalenante, il che potrebbe riflettersi anche sul lavoro. Riguardo alle finanze, è forse il momento di evitare rischi eccessivi, ma non chiuderti completamente alle opportunità. In amore, prenditi il tempo necessario per comprendere appieno la situazione prima di fare passi significativi. Divertiti, ma mantieni un occhio sui risultati. Vive questa fase prolifica senza preoccuparti troppo se capita durante il Natale. Affronta problemi inaspettati con alternative creative. Rifletti sulla tua forza interiore, anche quando turbato. Talvolta, aspettare che i problemi si risolvano da soli può essere la scelta migliore. Prendi posizione nella sfera privata, anche se può essere difficile. Affronta decisioni dolorose mantenendo gli occhi sui tuoi obiettivi. Ricorda che il percorso intrapreso è un obiettivo in sé. Ciao pesci. Pesci. Sembrano esserci un po' di scherzi cosmici nella tua vita ultimamente. Anche se ti senti come su una nave in mare agitato, mantieni la calma. In amore, potresti affrontare qualche sfida, ma ricorda che dietro le nuvole più scure c'è sempre una luce. Sul lavoro, evita rischi inutili, poiché la fortuna è incerta. Tieni stretto al portafoglio e gestisci attentamente la tua energia per affrontare le sfide quotidiane con saggezza. Solare ma volubile, pesci dovrebbe cercare di liberare la mente da pensieri inutili, anche quelli positivi possono diventare problemi. Il tuo atteggiamento positivo conquista gli altri. Goditi la vita con il partner, la famiglia e gli amici, pianificando attività preziose. Le stelle sono favorevoli, ma evita di sperimentare troppo. Libera te stesso da vecchi pesi e chiudi vecchi capitoli. Crea spazio per i momenti meno perfetti.